Dall'Abruzzo può arrivare un grande segnale e dall'Abruzzo può partire il rinnovamento del centro-sinistra grazie a forze giovani e capaci e a un candidato presidente della regione, Giovanni Legnini, che ha grande esperienza nel territorio. Con queste parole il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Graziano Del Rio, ex ministro per gli affari regionali e poi delle infrastrutture, è intervenuto questa mattina al comitato elettorale dei candidati al Consiglio regionale, Pierpaolo Pietrucci e Patrizia Masciovecchio. Del Rio ha ricordato l'impegno del governo Renzi, di cui faceva parte, per lo stanziamento in legge di stabilità dei circa 6 miliardi per la ricostruzione, risorse alle quali attinge a tutt'oggi tutto il cateresismico 2009. L'ex ministro ha risposto anche a quanti chiedono di nazionalizzare le autostrade a 24 e a 25 e ha difeso la riforma delle province per le quali ha ammesso occorreva forse fare qualcosa di più. Nonostante la discesa in campo di Giovanni Legnini, i sondaggi non sono così positivi nei confronti del centrosinistro? Noi siamo convintissimi invece che l'azione di Giovanni e di tutti i candidati possa ribaltare questo iniziale svantaggio con cui siamo partiti. Il quadro anche nazionale sta cambiando molto rapidamente. Le chiacchiere, le passerelle, le dirette Facebook non risolvono i problemi della gente. Sulle autostrade abbiamo già detto, la questione che abbiamo messo in campo noi era un miliardo e duecento milioni di investimenti per la messa in sicurezza dell'autostrada ed è stato il blocco delle tariffe per tre anni. Dopodiché ci sono stati dei ricorsi che loro hanno vinto e ci hanno costretto all'aumento. Però io credo che la nazionalizzazione sia una prospettiva da tenere per ultima. Graziano Del Rio è stato come ministro delle infrastrutture anche tra i padri della riforma del codice degli appalti, definito dagli operatori del settore la causa principale del rallentamento della ricostruzione pubblica nel cratere sismico. Una riforma necessaria, ha detto Del Rio, rispondendo in questo modo a quanto sostenuto in una recente intervista dal provveditore alle opere pubbliche Vittorio Rapisarda. Tutto quanto è partito prima che il codice appalti entrasse in vigore. Cioè la gran parte degli appalti che sono stati fatti, anche qua, non sono appalti che sono... perché il codice appalti ha dispiegato i suoi effetti sostanzialmente dai primi mesi del 2017. Mi spiego? Quindi le gare sono state fatte prima, la gran parte delle gare, perlomeno, perché altrimenti non hanno... delle gare che sono qui. Quindi è proprio esattamente il contrario. Io...